Signore e signori, Anastasia! Ciao! Ciao! So, so, so! La grande Anastasia! Ok, it's me and you now. It's me and you, baby. It's already good. You're going to make me swim for my... Well, you have the right body. Oh, well, thank you. Per chi non l'avesse capito, mi ha chiesto se voglio insegnarla a nuotare. Ho detto, normalmente, il fisico c'è. La carta, vuol dire, la materia prima c'è. Ma lei è una china, non è una... I would sink. I would sink. No, no, I can't compete. No, no, don't worry. You can sink, I can swim. Anyway, you... I did read a lot of things about you. Uh oh. Allora. Ho letto un sacco di cose su di lei. Vediamo se sono veritiera adesso. So, I read that you said you're a freak of nature. Yes. Yes. Do you like my Australian accent? I love your Australian accent. You're calling me off there a little. Lei è uno scherzo della natura. Do you think to be one? Do you really feel to be a freak of nature? You know, I want the word freak to be a positive word. I don't want it to be negative anymore because in my career coming out it was negative. So, I want the word to be positive. I want people to not feel like they need to be freaks of negative. They need to be freaks of positive. Being a freak is a good thing. Ok. And that's why I choose. Spesso, traduco brevemente, spesso uno quando parla di scherzo della natura si riferisce a una cosa appunto negativa. Lei lo fa soltanto in senso positivo perché freak of nature da piccolina per lei era un modo per, diciamo, farsi vedere, farsi notare. Perciò è stato un momento forse duro. Adesso invece soltanto vuole ricordare le persone, freak of nature significa appunto una cosa positiva, una cosa che deve trasmettere soltanto energie. Che sport ti piace? Do you like sport? Do I like who? Sports. Sports? I love sports. Yeah, why not? A little football. A little bit of football? Yeah. Going back to the football. Yeah, I know that you're going to sing at the football. Yes, I am. World championships. I'm going to be the official song singer of the football song Boom. Ok. Ecco. I know the typical, you know, David Beckham, you know. Ok. Or the big ones. But I'm learning more. Beckham. Beckham. I know. I know. I know. I'm learning more and more. Learning ones. Yeah, just give me some time here big guy. Ok. Give me some time. Make sure you don't forget about the swimmers. No. Ricorda soltanto, ho chiesto se ricorda qualche giocatore in particolare del mondo. Ricorda Beckham. Beh, l'ha detto prima. Italiani niente, ragazzi. Nessun italiano. Però non è mai tardi per imparare, ha detto. Ecco. Prima dei mondiali imparare ai nostri nomi. Lei paga i suoi debiti. Li paga? Do you pay a dues? I think I constantly pay my dues, but I think that this is part of a due that I've been dying to pay all year, to come right back here and pay my dues. Ovvero, è tutto l'anno che aspetta di pagare questo debito e perciò adesso ci farà felici con la sua canzone Pay my dues. Anastasia! Anastasia! Grazie.